bismillahirrahmanirrahim nel nome di Allah il sommamente misericordioso il clementissimo guida e misericordia quando Adamo ed Eva furono estromessi dal paradiso e mandati sulla terra si incontrarono in quella che è la più grande penisola del globo terraqueo che oggi si chiama Arabia e lì Adamo in una valle del cuore di questa grande penisola costruì il primo tempio dedicato al creatore dell'uomo e di tutto ciò che uomo non è l'uno l'unico l'unipersonale il cui nome nella sua ultima rivelazione è Allah rifulga allo splendore della sua luce quindi dalla grande penisola Adamo ed Eva iniziarono iniziarono la procreazione del genere umano e nel metterli fuori dal paradiso terrestre Allah promise loro che avrebbe mandato che avrebbe mandato la sua guida e che chiunque avrebbe seguito la sua guida sarebbe stato salvo il genere umano si diffonde il tempo passa il diavolo che ha promesso ad Allah di attaccare l'uomo di attaccare la progenie di Adamo da tutte le parti dato che tra i figli di Adamo ci sono anche dei santi uomini attorno ai quali si crea una devozione da parte di popolazioni di gruppi questi uomini a poco a poco vengono venerati e con il passare del tempo vengono divinizzati in base a quel famoso processo che si chiama apoteosi per cui determinate persone che hanno del carisma dal culto della personalità di cui vengono fatti oggetto in vita diventano poi destinatari di venerazione e poi addirittura di adorazione quindi la misericordia di Allah che era stata annunciata ad Adamo con l'invio della guida prende prende forma fisica nel profeta Noè nel profeta Noa e il profeta Noa essendo un profeta del creatore dell'uomo e di tutto ciò che uomo non è mettendo in pratica i comandamenti che Allah aveva dato ad Adamo che avevano dato vita ha un sistema di comportamenti di obbedienza per cui la parola araba che lo indica è la parola Islam per cui possiamo dire che Adamo fu un profeta dell'Islam che potremmo chiamare Adamo Adamico e questo Islam si dissolve nel tempo fino a quando Allah viene messo in profondità nel panorama dei culti inventati dal diavolo per distrarre dal culto autentico e allora ecco che Noè viene investito nella missione profetica anche Noè è un profeta del creatore dell'universo e dell'uomo a cui viene affidata la missione di richiamare gli uomini dall'idolatria dal politeismo idolatrico al culto dell'uno unico e unipersonale e Noè predica in privato in pubblico a livello individuale e a livello sociale probabilmente avrà fatto anche delle conferenze però invece di chiamare faceva fuggire la gente faceva fuggire la gente anche perché si era instaurato nel popolo di Noè un sistema di dominio dell'uomo sull'uomo che era garantito dal politeismo idolatrico e quindi è chiaro che i sacerdoti del politeismo idolatrico e i detentori del potere non vedevano di buon occhio la predicazione del profeta Noè che venne seguito soltanto da quelli che erano i diseredati da quelli che erano gli sfruttati di quel sistema di potere e questo dicono i potenti della classe dominante del popolo di Noè quelli che ti hanno seguito sono soltanto le persone diseredate le persone da poco noi non ti seguiremo e quindi Noè continua la sua predicazione e scampa fino a diverse centinaia di anni e quando vede che purtroppo il suo messaggio non viene ascoltato si rivolge al Signore e dice non mi ascoltano non non seguono le mie direttive invece di avvicinarsi a me quando io parlo se ne vanno voltano le spalle se ne vanno e allora Allah che per suo misericordia verso l'umanità aveva suscitato Noè per richiamare gli uomini alla giusta direzione all'unico culto vero che l'uomo deve avere cioè di adorare il suo Signore il suo creatore e di non fare di suoi simili degli dei dice a Noè dice a Noè costruisci l'arca e quindi ecco che la costruzione dell'arca è un segno della misericordia di Allah per i credenti difatti il profeta Noè costruisce l'arca sulle direttive ricevute da Dio da Allah dal suo Signore dal Creatore obbedisce agli ordini del Creatore mentre i suoi denigratori si facevano beffe di lui e in base al proverbio che ride bene e che ride ultimo Noè continuò in perterrito della costruzione e quando fu costruita obbedì all'ordine di Allah di far entrare nell'arca una copia di tutti gli animali di tutte le creature viventi e di far entrare nell'arca quel gruppo che aveva abbandonato l'idolatria e lo aveva seguito nel culto dell'uno unico e unipersonale e una volta entrati nell'arca ebbe inizio il diluvio universale ora Noè aveva un figlio di cui lui non era padre benché fosse figlio di sua moglie e questo figlio veniva invitato da Noè vieni figliolo vieni sull'arca e il figliolo dice no no mi salverò non ho bisogno di entrare nell'arca mi salverò andando in cima alla montagna però e Noè implora oh signore salva mio figlio e il signore dice non chiedermi quello che tu non sai quello non è tuo figlio di fare la rivelazione nel momento drammatico allora scusami signore non voglio essere uno degli ignoranti e così il figlio viene sommerso come tutti coloro che avevano rifiutato di credere al messaggio che per sua grande misericordia Allah il creatore aveva mandato per mezzo aveva mandato loro per mezzo di Noè del profeta Noh alaihissalam che lui aveva inviato loro per richiamarli alla verità e così il diluvio sommerge la terra e dopo il tempo che Allah ha voluto l'arca si posa sul monte Giudì che dei ricercatori archeologici hanno individuato nel monte Ararat dove hanno creduto anche di trovare delle reliquie dell'arca e gli uomini che si erano salvati nell'arca in quanto erano musulmani perché musulmano significa colui che obbedisce ad Allah secondo il messaggio portato dal profeta pro tempore di Allah e in questo caso ecco che ciascuno di noi giappeti noi occidentali bianchi camiti i neri semiti gli ebrei e le popolazioni che abitano con la parte abbiamo tutti avuti un antenato musulmano perché la famiglia scesa dall'arca era musulmana e poi da lì si è ripetuto lo stesso fenomeno diffondendosi gli uomini i discendenti dei discesi dall'arca sulla faccia della terra sono stati sempre attaccati da Satana ed è ritornato che cosa che si sono ricreati i culti idolatrici e lo possiamo vedere nel Corano quando parla del modo con cui Abramo su lui la pace entra nella dignità di profeta di Allah perché perché vede la stella e dice questo è il mio Dio e questo è un documento di che cosa dell'esistenza di culti astrolatrici poi viene la luna e dice questo è il mio Dio perché è più grande e questo è un segno che si sono diffusi dei culti selenici dei culti di adorazione della luna che in arabo è maschio è maschile la luna poi vede il sole questo è più grande questo è il mio Dio ecco è un documento di che cosa dei culti eleolatrici dei culti solari diffusi sulla terra nel corano vediamo che la regina di Saba adorava il sole e il suo popolo adorava il sole quindi ecco che dopo questa nuova diffusione per effetto del grande lavoro che il diavolo svolge per completare la sua promessa fatta ad Allah quando gli disse quando disse a lui dammi tempo fino al giorno del giudizio li attaccherò da tutte le parti attaccherò i figli di Adamo da tutte le parti e vedrai che solo pochi ti rimarranno fedeli e allora Allah dice ti do potere su tutti quelli che ti seguiranno ma non avrai potere su quelli che saranno i miei servi fedeli e la lode appartiene ad Allah il Signore di tutti gli universi grazie a tutti